Ci sono voluti 90 minuti di grandi emozioni per riuscire a strappare lo 0 a 0 che permette al Caglia di arrivare in finale. Un miracolo sportivo, quello messo a punto da Claudio Ranieri che quando è arrivato a Caglia è una squadra del tutto sfasciata e ora si permette di giocare con tanti cambi tattici e sfruttando tantissimi calciatori che sono diventati tali proprio da quando è arrivato il grande maestro che ha fatto di un gruppo una squadra e anche quest'oggi è stato un gioco di squadra quello che il Cagliari ha messo in campo contro il Parma prima per neutralizzare la squadra al Tardini in casa in una situazione ambientale chiaramente favorevole ai giocatori crociati e poi per arrivare fino alla fine soffrendo, soffrendo particolarmente, andando a rischiare anche la beffa con due traverse che ha subito nella parte finale e dopo aver signorato tantissime volte il gol che poteva mettere al sicuro il risultato. Alla fine è arrivato lo 0 a 0 che ci permette di passare il turno, di presentarci al rush finale, a quello che è il rettilineo di 180 minuti che ci vedrà giocare contro il Bari. Il Bari che affronteremo giovedì sera all'Uripol Domus i primi 90 minuti e poi domenica sera al San Nicola di Bari in un clima che sarà certamente incandescente contro il Sudirol c'erano 52 mila paganti per intenderci nello stadio barese. Il Cagliari di oggi è stato un Cagliari che ha saputo rinunciare anche a giocatori importanti, vedi Mancoso che non è entrato in tutta la gara e che ha chiuso ogni varco alla Parma in una partita difensiva nel primo tempo condotta con l'intelligenza con Curfaliris che si è aggiunto nel pressing di centrocampo per difendere alto, per non farsi schiacciare per non sottostare a quella che era la spinta dei padroni di casa. Abbiamo sfidato il gol perché la Padula il gol l'aveva messo a segno su un bel passaggio di Macumbu ma è scattato un attimo prima e quindi con mezzo metro di fuorigioco che hanno portato poi all'annullamento. Col passare i minuti chiaramente tutto un po' si è complicato perché Pecchia ha cercato di sfruttare tutti gli uomini d'attacco che aveva in panchina ed è stato molto bravo Ranieri a trovare la mossa giusta, quella di chiudere anche la corsia di sinistra per spostare l'uvumbo centrale. È stato l'uvumbo anche oggi un po' il protagonista, protagonista non assoluto perché ha mancato il gol in un paio di occasioni ma perché è stato comunque capace di mettere pressione al Parma, di metterlo in allarme, di non permettergli di stare mai sereno. E alla fine abbiamo strappato lo 0-0 dopo aver rischiato come abbiamo detto in due occasioni con due traverse una delle quali con rimbalzo sulla linea di porta che va portato in un primo tempo a convalidare il gol come ne è capitato nel primo tempo per la Padula. Ma alla fine è stato strappato quel risultato di Pari che nell'ottica dei 180 minuti ci ha permesso di capovolgere la situazione e di avere un gol in più alla fine del conteggio. Lo stesso ragionamento lo dovremo fare con il Bari, quindi giovedì si partirà subito per tentare di vincere e porre la partita e quindi il vantaggio dalla nostra parte per poi giocarci tutto negli ultimi 90 minuti. Un miracolo sportivo, lo ribadisco, se si pensa a dove eravamo nel dicembre scorso. Diventa anche tu partner del commento a caldo e segna un gol fondamentale per la tua azienda. Chiamaci o mandaci un messaggio WhatsApp al 335 699 1693.